le idee del cazzo di jeremias rodriguez in realtà è stata mia voi non lo sapete ma il freddo che c'è non si può spiegare c'è un vento ragazzi sto perdendo un dito ve lo giuro vai camminate camminate allora rodriguez non rompere i coglioni stai zitta e lavora e gius e e e Grazie per la visione!